Una piazza virtuale aperta ai giovani che vivono la città per far conoscere in tempo reale offerte a prezzi vantaggiosi. L'indirizzo basta digitarlo esparagnam.it, una vetrina quotidianamente aggiornata dove trovare servizi culturali, ricreativi, commerciali e professionali a condizioni agevolate e riservate esclusivamente ai giovani fino ai 35 anni. Vogliamo innescare esparagnam.it il primo passo, un obiettivo, cioè quello della convenienza. Tanti ragazzi napoletani sentono la difficoltà di vivere in questa città, non conviene essere a Napoli. Adesso iniziamo con questa carta innovativa che ha raccolto il sostegno e questo ci dà grande lavoro e onore della FederConsumatori e di tutte le associazioni anti-racket della città di Napoli, proprio perché è importante ogni volta si parla di giovani parlare anche di valori. Il progetto, primo in Italia nel suo genere, nasce da un'idea dell'assessorato alle politiche giovanili del Comune per favorire l'incontro tra domanda ed offerta. Cultura, benessere, sport, enogastronomia sono solo alcune delle categorie merceologiche presenti sul portale ed accessibili a prezzi scontati. La Racne Communication ha realizzato la piattaforma sparagnam.it per cercare di agevolare gli esercenti commerciali che sicuramente non vivono un periodo di positività e soprattutto i giovani under 35 che possono fruire dei servizi di questa città e acquistare prodotti in maniera agevolata. Per usufruire delle offerte bisogna recarsi presso l'esercente commerciale, il professionista o la struttura ricettiva aderente all'iniziativa e dimostrare la propria età esibendo un valido documento di riconoscimento. Stimola il consumo critico, ha una serie di agevolazioni per l'economia, il commercio, la cultura, la mobilità anche una mobilitazione verso coloro che hanno esercizi commerciali impegnati nella lotta al racket, all'usure e contro il crimine. In questo modo speriamo con questa sfida di mettere in moto anche l'economia e il commercio e soprattutto di dimostrare che essere giovani a Napoli conviene e che Napoli sempre di più punta sui giovani. Andate online sul sito, sono già più di un centinaio le offerte che in modo non speculativo vogliono dare sia alle imprese ma anche giovani opportunità concrete di sviluppo.